ciao bimbi sono la maestra Elisa e oggi giocheremo con il nostro corpo per fare questo gioco ci servono dei cuscini messi uno dietro l'altro con un po di spazio una corda che può essere corda, lana o nastri e dovete fare un cerchio un pallone e un cesto per fare quel canestro facciamo dei salti a piedi pari 1, 2, 3, 4 arrivati qui un bel salto a gambe di barricate, un piede dentro e un piede fuori e tenendo fermo sempre un piede ci passiamo attorno e poi salto dall'altra parte sempre attorno ed è sempre il piede esterno che si deve sentire a questo punto entro dentro al cerchio, faccio 5 palleggi 1, 2, 3, 4, 5 con una mano e 5 con l'altra 2, 3, 4, 5 e cerco di fare canestro bene ci sono riuscita, a questo punto torno indietro con i gamberi metto giù, alzo sul sederino e vado indietro fino al punto di partenza e potete rifare questo percorso tutte le volte che volete ciao alla prossima avventura